Dottor Tavolieri si è parlato oggi in questo tavolo con il dottor Di Carlo organizzato dalla Pescara Calcio, Clinica Pierangeli e Medical Center di legamento crociato anteriore. Io lo definisco l'incubo di tanti sportivi. Sicuramente è il trauma più frequente, è quello che può mettere a repentaglio la carriera di uno sportivo. I tempi di recupero, domanda che si fanno in tantissimi sportivi. Il tempo di recupero è fondamentale, il timing è fondamentale. Non bisogna mai accelerare, bisogna aspettare sempre la guarigione biologica. Io direi che cinque mesi è un buon tempo. Io le chiedo quali sono gli step con l'infortunio del legamento crociato anteriore, dal trauma al ritorno in campo, quali sono i passaggi? Noi stressiamo molto questa situazione. Per noi l'inizio della riabitazione inizia, scusate il gioco di parole, con il trauma stesso. Cioè che noi il trauma recupero, quindi preparazione all'intervento chirurgico è fondamentale, intervento chirurgico e poi rispettare le varie fasi del programma riabitativo fino al ritorno allo sport. Per diagnosticare la lesione del legamento crociato anteriore è sufficiente la manovra del cassetto? Diciamo che è importantissimo conoscere bene le manovre semiologiche che ci permettono di valutare se un giniocchio è stabile o instabile. Ne abbiamo a disposizione più di una. La risonanza magnetica non serve per fare diagnosi, serve al massimo per confermare una diagnosi. Le chiedo un'ultima cosa. Lei ha fatto vedere l'esempio di una pallavolista nel corso del convegno. I calciatori però mi viene in mente Milik, mi viene in mente Zaniolo, rottura del crociato, tornano in campo, rottura dell'altro crociato. Perché? Guardi, non c'è una causa, non c'è un motivo, non c'è in realtà una storia biologica che ci può dire che un sportivo può subire una lesione su un solo crociato o sul ginocchio controlaterale. Ci sono sportivi che subiscono tantissimi traumi e rimangono integri. Ci sono purtroppo sportivi che subiscono traumi e si rompono il crociato sia sul lato che sull'altro lato. Ci sono sportivi purtroppo e sono molto contento che sia entrato in campo Vittorossi con la SPAL che purtroppo ha subito più traumi sullo stesso ginocchio e che veramente secondo me ha minato la sua reale potenzialità sportiva.